Buonasera, nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto. In marmolada le ricerche proseguiranno ancora per dieci giorni, poi verrà fatto un quadro della situazione generale. Secondo qualcuno non viene esclusa una parziale riapertura della montagna, anche se risulta il momento prematuro per dirlo. Sul territorio intanto arrivano notizie di tante disdette alla luce della tragedia. È evidente la difficoltà di poter scegliere la meta come luogo di vacanza. Intanto continua sul fronte delle indagini la valutazione dei reperti ritrovati in questi giorni. Il dolore è forte, le scene agli occhi dei sopravvissuti e dei soccorritori continuano a mostrarsi con il loro orrore. Non si danno pace ovviamente i familiari di chi ha perso la vita e di chi ancora non è stato identificato. In Veneto continua la corsa del Covid. I numeri nella nostra regione sono preoccupanti. In crescita le vittime ma anche i ricoveri. Sentiamo i dati. In Veneto il Covid fotografa una regione con dati elevati su tutti i fronti. Salgono positivi, vittime e ricoveri. Nel bollettino vengono riportati 14 morti in 24 ore. Circa 14.000 nuovi positivi, che porta al numero totale dei contagiati in Veneto in questo momento sull'intero territorio, a 101.000 persone con il Covid-19. 53 i ricoverati in un giorno e 7 i pazienti finiti in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati, compresi i nuovi ingressi, è 905 pazienti in reparto e 46 in terapia intensiva. Dunque si preannuncia una nuova situazione difficile negli ospedali. Se la situazione dovesse continuare a vedere numeri in crescita, ormai si tratta di una situazione che abbiamo già visto. Inoltre nella sanità c'è anche il problema delle lunghe liste d'attesa. Tanto che il presidente della regione chiede che vengano reintegrati quei medici, quegli infermieri sospesi perché si erano rifiutati di sottoporsi al vaccino. Zaia chiede che vengano reintegrati per far fronte alla situazione che chiede la presenza di personale. In Veneto i sospesi sono circa 4.500. Andiamo a Venezia dove la polizia di Stato ha emesso 39 d'aspo a seguito degli scontri avvenuti un po' di mesi fa in occasione della partita di calcio Venezia-Bologna. Vi facciamo vedere il servizio con le immagini di quella giornata. Il questore di Venezia ha emesso 39 d'aspo con i quali viene inibito l'accesso agli impianti in occasione di eventi sportivi a carico di 19 tifosi veneziani e eventi simpatizzanti del Bologna. L'attività è scaturita dalla partita di calcio, valevole per la Serie A disputata tra le squadre di Venezia e Bologna lo scorso 8 maggio, quando circa un'ora prima dell'inizio della sfida calcistica una trentina di supporters lagunari e altrettanti ultras dall'altra parte si sono fronteggiati nel territorio lagunare tra Campo della Tana e Rio dell'Arsenale. In quella occasione il pronto intervento delle forze dell'ordine ha bloccato gli scontri evitando il peggio. L'attento esame delle riprese da parte della polizia scientifica ha permesso di individuare con certezza le persone che hanno dato vita alla rissa in piena città. A riguardo le ricostruzioni ex post dei fatti accaduti fanno ritenere che i due gruppi si fossero organizzati precedentemente per ritrovarsi proprio nelle vicinanze dell'Arsenale. Tra i supporters del Bologna individuati ci sono tifosi olandesi e scozzesi che sarebbero addirittura giunti appositamente per seguire l'incontro e prendere parte agli scontri. Le misure adottate variano dai 2 ai 5 anni a seconda degli specifici precedenti in materia dei singoli soggetti. Sono stati inoltre segnalati alla locale procura della Repubblica per sussistenza degli estremi del reato di rissa aggravata. Dunque avete visto queste immagini davvero incredibili avete sentito la situazione dunque 39 d'aspo e la polizia nella stessa vicenda ricorda come sulle testate giornalistiche online in quella stessa data si era diffusa la notizia che a causa degli scontri un tifoso era caduto in laguna. Il dato si rivelò poi falso in quanto un turista straniero nelle vicinanze del ponte dell'Arsenale aveva visto cadere un passeggino vuoto fortunatamente in acqua e temendo che vi fosse adagiato un bambino si era buttato in acqua per salvarlo. Arrestato dai carabinieri di Villafranca di Verona l'uomo che era ricercato e che sarebbe il presunto responsabile dell'omicidio a Lendinara in provincia di Rovigo di un suo connazionale. L'altra notte era scoppiata una rissa tra immigrati la vittima a 32 anni si era intromessa per cercare di calmarli ma aveva ricevuto una coltellata un colpo che gli ha reciso l'arteria femorale procurandogli la morte. Il marocchino che era ricercato in queste ore è stato rintracciato all'interno di un bar del centro di Bovolone in provincia di Verona è stato portato nella casa circondariale di Verona. Fino ad ora avevamo visto immagini di cinghiali a spasso per la città di Roma avevano fatto discutere e creato scompiglio e succede tuttora ma ora questi cinghiali stanno arrivando anche giù dai colli e ugani pertanto si stanno iniziando a vedere anche ad Abano e su questo argomento è intervenuta Elisa Venturini consigliere regionale. Allarme per la presenza dei cinghiali in centro ad Abano interviene il consigliere regionale Elisa Venturini che chiede una risposta immediata. Le immagini dei cinghiali nel centro di Abano afferma hanno bisogno di una risposta veloce ed efficace. Lo afferma Elisa Venturini capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Veneto. Spiega la consigliera di aver segnalato all'assessore regionale Cristiano Corazzari che è necessario intensificare l'azione per contenere i cinghiali sui colli e ugani. La presenza massiccia degli animali nei colli così come nella bassa padovana è una questione che recependo le sollecitazioni di agricoltori e cittadini stiamo seguendo. È fondamentale agire in maniera rapida e coordinata mettendo attorno a un tavolo i soggetti interessati perché l'immagine turistica del nostro bacino termale va assolutamente preservata. Conclude Elisa Venturini. A Padova la Guardia di Finanza ha scoperto una frode all'IVA bilmente ingegnata. Sono scattate denunce ma anche sequestri per 600 mila euro. Vi raccontiamo quanto accaduto. Sequestri per 600 mila euro e sei indagati. A Padova la Guardia di Finanza ha concluso un'indagine scoprendo una frode all'IVA che sarebbe stata compiuta da due società che si occupano di commercio di materiale elettrico. Il provvedimento cautelare è giunto a conclusione di un'indagine che ha portato alla luce un complesso sistema evasivo fondato sull'ommesso versamento IVA ad opera di sei società, tutte operanti nello stesso settore. I controlli sono stati estesi alle consultazioni delle banche dati e sono state svolte perquisizioni oltre che a Padova anche Latina e Pomezia. È emerso un vorticoso giro di fatture per operazioni inesistenti emesse e ricevute dalle società Patavina poi trasferite a Treviso. La società avrebbe avuto tra l'altro un unico fornitore in Slovacchia e un unico cliente in Italia. Le sei persone coinvolte sono state denunciate per associazione per delinquere, emissione e utilizzo di dichiarazioni di fatture per operazioni inesistenti per un imponibile di poco superiore a 4,2 milioni di euro. Un video hot con i bollenti spiriti di una coppia seminuda sta girando nel web. Le immagini arrivano dalla centralissima via Roma a Padova, proprio davanti ad un murales di Kenny Random. Sarebbero di qualche notte fa, ma al momento i due non sono stati riconosciuti e nei loro confronti dunque non ci sarebbe alcun provvedimento. E adesso parliamo di un incendio, un incendio piuttosto vasto che è scoppiato ieri pomeriggio in provincia di Verona. Il servizio. Intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri a Sant'Ambrogio di Valpolicella in provincia di Verona. L'allarme è scattato dopo che da un'autovettura parcheggiata in una corte di via Case Sparse Colombin si sono levate delle fiamme. Dopo aver interessato il mezzo, le fiamme si sono diffuse attraverso le sterpaglie, alla roulotte parcheggiata nelle immediate vicinanze e a un terreno coltivato a vigneto e a circa mille metri quadri di bosco. I pompieri, partiti da Bardolino e da Verona con quattro otto mezzi e undici uomini, hanno operato per spegnere le fiamme che si stavano estendendo anche alla vicina abitazione. La rapidità dell'intervento ha permesso di salvare la struttura e il vicino pollaio. Successivamente si è provveduto ad effettuare lo spegnimento dei roghi ancora attivi, operazione a cui hanno preso parte anche una squadra del servizio boschivo della regione Veneto. L'intervento si è concluso intorno alle ore 20. Ed ora vediamo che cosa aspettarci dal clima secondo l'ARPAV di Teolo. Si rafforza un'alta pressione con aria parecchio calda, centrata sulla penisola iberica, mentre più a nord-est scorrono a tratti correnti leggermente cicloniche con un'aria un po' più fresca. Ciò basta portare sul Veneto giornate via via più calde, fino ad un probabile culmine previsto da noi per la giornata di venerdì. Anche se prevarranno gli spazi di sereno, alcuni temporanei addensamenti nuvolosi potranno associarsi a locali piogge, più che altro in montagna. È tutto per questa edizione, grazie a tutti voi per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti.